Un evento molto istruttivo e costruttivo, perché comunque abbiamo potuto parlare di nuova generazione con delle aziende molto diverse dalla mia. Sicuramente con un bel bagaglio di competenze e di esperienza e hanno raccontato cose che porterò a casa e su cui penserò sicuramente. Quello che è emerso da questi due giorni, ma che era già un convincimento che avevo molto fondato, l'importanza di come il retail fisico si dovrà integrare oggi con tutto quello che è l'ecosistema digitale. E quindi la sfida del futuro è quella di far convivere, collaborare, cooperare i due aspetti del brick and mortar con quello del digitale. Sono molto molto soddisfatto, ho avuto la possibilità di conoscere un ecosistema che per me, anche girando tanto il mondo, era sconosciuto e quindi capire anche un po' quali sono le problematiche, quali sono le opportunità e lavorare assieme per un retail migliore. Io credo che il retail cambierà, tutti i retail cambieremo, quindi di largo consumo ci saranno forti cambiamenti, dobbiamo essere bravi a coglierli sono convinto che un grande cambiamento sarà davvero portare il cliente al centro e fare quello che diciamo tanto spesso ma non facciamo. Grazie a tutti!